Ciao a tutti ragazzi noi siamo i Tops e oggi siamo tornati qui su una nuovissima challenge che si chiama Touch My Body Challenge che praticamente consiste nel bendarsi e praticamente quello che non ha la benda prenderà un dito a quello bendato e si farà toccare una parte del corpo e quello bendato dovrà indovinare se indovina 1 punto, se non indovina 0 punti e vince quello che fa il punteggio massimo perciò ragazzi spero che questo video vi piaccia, continuate a supportarci perché stiamo tornando in settimana uscirà anche un nuovo video e buona visione bene ora tocca a me, non vedo assolutamente un prepuzio perciò puoi partire ma mi ritocca più di tre volte non si può toccare qua, in questa parte del... no, mi dispiace, sarà per la prossima volta aspetta, ho altre possibilità di noi qua allora no qua no, bene hai perso cos'era, cos'era qua 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 Dov'è? Allora la parte del viso Ed è esattamente la guancia No, what? Albero Pum, non puoi! Te l'ho fatto toccare 40 volte Ah sì sì, questa parte qua No, è l'ultimo Allora è questa No Allora Questa Ah, va bene Non sto toccando niente È qua Dove? No Qua No Ma è sul piede? No, cioè non te lo posso dire È qua Sì No Siamo 1 a 0 per me E ora ragazzi Stai fermo, non puoi! C'è un imbroglione È vicino al narro È questa parte qua Aspetta 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 Questa parte qua Sì giusto Sì giusto Sì giusto Sì giusto Sì giusto Dai Aspetta 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 Te l'ho fatto toccare 3 volte Sì io te l'ho fatto toccare più una 48 Qua Qua? No Qua? No Era una parte un buon di... Qua! No Cos'era? Diz No Non hai sciangolare? Ma cazzo Mi hai picchiato Tipo... Fammi la ritoccare Te lo vado Tipo Tipo Eh È questa parte qua No! Non proprio quella Eh vabbè No ascolta prima Questa No È questa Sì Che schifo Ho sentito della feluria È lo stinco Qual è lo stinco? È questo No Qua Lì No Come? Qua? No Cosa? No È troppo generale Come è troppo generale? È un punto preciso Qui? No Sì No qui Quale? È questo Giusto qua Ma dai Mi stai andando a te Tko È strappo È strappo Hai Sì Aviva Puglio hai toccato già quattro volte no ora sta facendo i dati prego se a 3 a 1 mi manca il 2 qua no hai toccato tre volte no ho fatto così dai ultima volta hai già detto una volta basta no stira via i cosi no no dai che cosa fai io non so cosa fai io non so No ti ho detto! Questa! No! E' l'ultima possibilità! C'è di toccare Gangplug! Questa! No! Ah! Non c'era! Era questa! Un'altra volta! La question! No! Qua? Si! E' una coscia lì eh! Cosa vuoi vedere? Questa! Giusto! Eeeh! Dai! Questa! Giusto! Hai vinto! Ho vinto! Ho vinto! Si però avrei... Ho reggiato io eh! Sei proprio un imbroglione! Siamo arrivati alla fine di questo episodio! Perciò ci rivediamo tra un paio di giorni con un nuovo video! Se non siete ancora iscritti iscrivetevi, lasciate il like! E comunque vi volevo ringraziare prima di andare via degli 85 iscritti! Bella ragazzi! No! No! No!